A Bisignano, in provincia di Cosenza, per ricordare il 25esimo anniversario della morte del giudice Paolo Borsellino e degli uomini della sua scorta, è stato inaugurato un giardino che porta il loro nome. La manifestazione commemorativa è stata promossa dalla localizzazione del partito dei Fratelli d'Italia. Oggi inauguriamo il giardino di Borsellino, un doveroso tributo alla figura di un servitore della patria, Borsellino, e degli uomini della sua scorta. Un uomo che ha saputo onorare la sua carriera di magistrato, un magistrato che non si è piegato alla mafia, e un padre che ha saputo accettare il suo sacrificio. Abbiamo impiantato questo albero d'ulivo che deve simboleggiare la pace, la pace di cui abbiamo bisogno, e che una popolazione libera, una popolazione unitaria, una popolazione che crede nei valori dello Stato, del tricolore e della legalità, deve sentire sulla propria pelle. Oggi a Bisignano è stata organizzata un'iniziativa lodevole, proprio perché non bisogna dimenticare chi, in qualche modo, per amore per la patria, per amore verso il suo lavoro, per amore e convinzione nel cercare di combattere quelli che effettivamente sono i mali dilaganti, purtroppo ci ha rimesso la vita. Oggi si commemora Paolo Bersellino, con troppa facilità noi sentiamo in mass media parlare di mafia, di indrangheta, addirittura elogiare i capi bastone. Basta pensare qualche settimana fa con la morte di Totorrina, tutti i giornali per due o tre giorni hanno parlato di Totorrina, però nessuno parla mai delle vittime della mafia, nessuno ha mai parlato della scorta che ci ha rimesso la vita per tutelare un uomo, e in questo caso faccio riferimento ai cinque uomini che hanno perso la vita mentre esercitavano il loro lavoro a tutela del giudice Borsellino, così come il giudice Borsellino e prima di lui, purtroppo, il giudice Falcone, con la moglie e altri tre uomini della scorta.